Siamo assassini. Ti penti della tua decisione di aver vissuto come assassino? È stata questa vita a scegliere me. E ho lottato per coloro che hanno sofferto il dolore dell'ingiustizia. Nulla è reale. Tutto è licito. L'uomo che ha ucciso nostro figlio è tuo alleato! Persino gli uomini che hai salvato ora ti voltano le spade. Cos'è la pace se non una pausa fra due guerre? Per oltre 30 anni ho servito la memoria di mio padre e di miei fratelli. Fare il pirata è pericoloso. Voglio una vita decorosa. Se vuole uccidere Templari, che uccida Templari. Lotevo alla memoria di De La Serre. Scoprirò la verità. In pratica controlla tutta Londra. Hanno già scordato l'orrore che hanno causato. Ma glielo ricorderò. Nessun uomo dovrebbe possedere quel potere. Ben sia ancora che Templari abbiano ragione. Ne sono convinto. Ci vorranno più delle belle parole per diventare un vero assassino, Edward. Ho ucciso mio figlio. Distrutto il mio villaggio. E ora marcia su queste terre con la luce di Amon-Ra. Betinti! Amato! Spartani! Ogni respiro che avete fatto vi ha condotti dove siete ora. Io dico di dissetare gli dèi con il loro sangue! Giacomo. Fungi di dissetare gli dèi con il loro sangue. Anche, sinceri, di dissenate per amore.